Grazie a tutti. I comitati che sono stato a visitare, in cui mi sono trovato a confrontarmi, con tanti volontari in alcune occasioni mi domandavano. Allora forse è il caso di dare alcune informazioni nei limiti di quello che uno strumento come quello che sto utilizzando consente. La privatizzazione significa rimettere al centro le attività dei comitati locali senza essere penalizzati dalla normativa pubblica e dall'appesantimento che da questo ne deriva. Significa essere rimessi in pista alla pari con le altre associazioni presenti sul territorio in cui si opera. Oggi noi paghiamo un prezzo altissimo alla burocrazia ed è bene che questa venga eliminata il più possibile attraverso un regime semplificato di contabilità che è tipico delle associazioni e delle ONLUS, con per carità un sistema di controllo che deve essere mantenuto ma comunque con un'autonomia finanziaria ed operativa reale sul territorio dove è il cuore pulsante della Croce Rossa italiana. Peraltro anche sotto il profilo del risanamento generale dei conti c'è da dire che comunque oggi un dissesto finanziario di un comitato è ripianato obbligatoriamente dal comitato centrale. Un domani invece ci si muoverà sul piano del buon padre di famiglia e un eventuale squilibrio dissesto potrà essere valutato dal comitato centrale con un piano organico. Oggi invece c'è un obbligo giuridico da parte del comitato centrale e sono tantissime le realtà in cui comunque il comitato centrale è chiamato ad intervenire per ripianare. Quindi andare verso questa autonomia significa per la stragrande maggioranza dei comitati liberare energie, significa veramente essere concorrenziali, significa veramente poter essere vicino a chi soffre, a chi è in condizioni di disagio, a chi è in condizioni di difficoltà, alla vulnerabilità in maniera snella, rapida, efficace, senza carte, senza burocrazia, ma con delle regole chiare e ovviamente con una trasparenza ma in un'ottica di rinnovata anche democrazia. La partecipazione che io sto chiedendo a tutti, il confronto, il controllo dei bilanci, la partecipazione nei comitati quando si andranno ad approvare i bilanci di previsione e i conti consultivi, quelli sono i momenti democratici più importanti in cui ci si confronta con i propri presidenti, il proprio consiglio direttivo, per verificare che effettivamente vi sia stata una operatività adeguata alle risorse che vengono destinate sul territorio. C'è un altro passaggio che a mio avviso è molto interessante anche da approfondire, quello del 5 per 1000 può sembrare una sciocchezza, in realtà è profondamente importante. Ancora una volta in questi giorni Croce Rossa Italiana è impegnata, come tantissime altre associazioni sul territorio, a fare la propria campagna del 5 per 1000, ma il numero delle adesioni che riscontriamo sulla nostra campagna è molto più basso rispetto allo stesso numero totale dei soci iscritti. Quindi questo significa che c'è comunque una sensazione di lontananza rispetto al comitato centrale, mentre invece noi riteniamo che potendo fare una campagna sul territorio che vi possa essere un'amplificazione di questa risposta che può arrivare anche attraverso uno strumento importantissimo come quello del 5 per 1000. Se io faccio la campagna del 5 per 1000 per la Croce Rossa del mio comitato, tutti i soci, tutti i volontari che quotidianamente sono impegnati, sono sicuro che si muoveranno e si muoveranno molto di più di quanto non facciano oggi per questo comitato centrale che tante volte ha creato problemi. Quindi a mio avviso può esserci anche un'amplificazione della capacità di raccolta, una maggiore dinamicità nel rapporto con i propri enti locali e quindi quella immediatezza di risposta che talvolta tanti di voi mi lamentano non esserci. Quando viene chiesto un nuovo servizio, venite chiamati magari da una ASL, da un comune per attivare un nuovo servizio in tempi reali perché si è creato un bisogno e quindi si parte invece con tutta una procedura che prevede mille autorizzazioni, mille fogli, mille pezzi di carta che io mi auguro possano venir meno il prima possibile, attivando degli strumenti di garanzia per tutti ma mantenendo veramente quella flessibilità che se si vuole essere vicino a chi è in condizioni di sofferenza non può mancare. Grazie